Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo del database Il database è una serie di informazioni contenute all'interno del programma che ci possono diventare utili per andare a ricercare eventuali immagini che abbiamo scattato nel tempo Se io prendo un'immagine qualunque e vado a vedere le sue proprietà abbiamo già all'interno una serie di informazioni Modello, tempo, diaframma, ISO, il tipo di macchina che è stata utilizzata il tipo di obiettivo, la data in cui è stata scattata, ecc Tutte queste informazioni sono già una parte integrante di un eventuale database che si può andare a creare La CDC attraverso delle impostazioni in automatico già cataloga tutte queste informazioni quindi già questa immagine nella fattispecie questa qui è già catalogata all'interno del database Il database è praticamente questo cioè perlomeno all'aggiunta del database automatico possiamo anche andare a inserire ulteriori informazioni per agevolare una ricerca Quindi partiamo da quello automatico Se io per esempio vado qui su aperture e quindi su quel che riguarda il diaframma e clicco su F1 mi farà vedere tutte le foto all'interno del mio database che sono state scattate con un diaframma F1 non è la fattispecie queste due foto sono due foto fatte col cellulare F2.8 mi aprirà in automatico tutte le foto scattate a F2.8 che io ho all'interno di questo database F4 a F4 mi farà vedere altre cose oppure posso andare a vedere altre informazioni tutte le foto fatte a 50 ISO oppure andiamo a vedere il tipo di obiettivo con un 50 F1.8 queste sono tutte foto fatte con il 50 F1.8 quindi già di suo a CD-seek si crea in automatico una serie di auto classificazioni che possono essere utili per un'eventuale ricerca in aggiunta abbiamo le categorie qui ce ne sono già un tot prestabilite però io posso anche andarle a creare quindi posso andare a dire non so bianco e nero assegnargli un'eventuale icona che mi può essere utile quindi a questo punto nel momento in cui ho questa immagine e gli dico che la voglio in bianco e nero lui automaticamente questa foto qua diventa bianco e nero anche questa qua la voglio catalogare come bianco e nero e siamo a posto quando io poi andrò a premere sul pussantino bianco e nero mi richiamerà le immagini che avevo catalogato c'è poi un'altra opzione di ACDC che è questa che praticamente sfrutta il riconoscimento automatico del volto io però questa funzione non l'ho mai utilizzata o non la uso perché rallenta parecchio la macchina perché è un'operazione che fa in automatico poi abbiamo la suddivisione per numeri quindi io posso assegnare a questa foto un valore di 1 oppure un valore di 4 e nel momento in cui io andrò a chiamare il numero 4 lui mi farà vedere tutte le foto che sono state spuntate con il numero 4 oppure per esempio posso andare a fare una ricerca per colore io in realtà sia i numeri che i colori li utilizzo nella fase di post-produzione per segnare quelli che ho già lavorato e quelli che non ho già lavorato quelli che secondo me vanno tenuti e quelli che vanno scartati quindi questi due questi due sistemi non li utilizzo o perlomeno non li utilizzo per fare il database utilizzo invece questo quindi le parole chiavi le parole chiavi che mi permettono di cliccando sopra food per esempio mi fa vedere le immagini nel mio database che sono assegnate a food io in questo momento sto utilizzando un database vuoto infatti qui nell'allenato appare vuoto 2020 perché il mio database è molto grosso ed è anche molto lento quindi nel momento in cui vado a cercare a chiamare un'immagine ci metto un attimino per essere un po' più veloce sono andato a creare un database nuovo infatti un'altra delle cose importanti di ACDC è che mi permette di creare è più database quindi se sono un fotografo professionista posso fare un database per i matrimoni o un database privato o un database per altre cose quali sono cose che ad appunto uno si deve gestire quindi nella adesso io di qua mi preparo mi sono già preparato un altro tipo di la sezione dove si vanno a inserire queste informazioni quindi vado a prendermi a prepararmi una cartella una una cartella di foto e quindi io prendo questo fiori e dico ok questo 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 e questo per me sono macro e fotografia vicina quindi praticamente nel momento in cui lo seleziono lui mi attiva macro vicino fiori questo è un è un animale quindi io vado ad attivare animale se io clicco qua su animale vedete che da questo punto qui mi appare l'attivazione animale e diciamo secondo me è una cosa abbastanza importante perché perché nella quando si comincia ad avere tante immagini la gestione dell'archivio diventa veramente veramente complessa e quindi avere un database ben organizzato strutturato bene quindi me lo preparo prima su un foglio di carta decido quali sono le categorie qui per esempio a CDC ne mette qualcuna di 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 esempio tipo non so qui fa la divisione per tipo di fotografia strat street sport macro eccetera ognuno si poi si crea le sue io mi sono creato le mie e ognuno si crea quelle che gli fa più comodo ecco una cosa importante utilizzate molto secondo me conviene utilizzarle le sottocartelle quindi famiglia poi metto dentro tutti i parenti varese metto dentro tutto quello che può essere varese natura poi potrò mettere animali per esempio potrebbe essere io l'ho messo qua però potrebbe essere inserito in natura quindi natura fiori piante eccetera a ognuno il suo ok grazie ciao ciao